Nonno congresso mondiale delle Camere di Commercio e dunque il soggetto sono proprio i vari enti camerali che si avvicendano, anche i vari enti camerali chiaramente del territorio nazionale. Siamo con la Camera di Commercio di Firenze, con il dottor Gerry Martinuzzi, che è il dirigente dell'area servizi di promozione. Benvenuta innanzitutto in Media Plaza, in Piazza San Carlo. La conosce Piazza San Carlo di Torino, l'ha già visitata? Sì, sì, la conosce Torino. Non molto, però ci sono già stata. Torino e Firenze a livello di bellezze se la contendono. Allora, dottore, lei in questa giornata fa anche parte di un momento di approfondimento, un momento di incontro, è uno speaker, è un delegato appunto per questo momento di riflessione. Dove va a puntare l'attenzione il suo intervento? Io ho presentato un progetto, coordonato da Union Camera e Google Italia, per migliorare l'invento di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo. Particolari, in Italia abbiamo un grande numero di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo. In Italia abbiamo un po' di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo. È un problema, è un problema. La cultura, l'intervento di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo. Il mercato ha un grande potenzione, perché il mercato di sviluppo 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 di sv con i prodotti tradizionali. Quindi la Commissione di Commercia, in particolare la Commissione di Florence ha sviluppato questo progetto basato su tre passaggi. Il primo è per dare visibilità all'interno di Google. La strada principale. La strada principale. La strada principale di divulgare la tecnologia di tutto. Per un'exhibizione generale di un'exhibizione. Concerne il particolare settore. L'artista settore dell'Italia. Per esempio. Ceramica. E così. Il primo è la presentazione di ogni settore. Di ogni territorio. Di ogni prodotto. Ora ci sono 160. Con questo approccio. Il secondo è la Commissione di Commercia. di New & Cammeri, in particolare. L'Italian Association di Commercia di Commercia. Ha sviluppato un altro instrumento. In cui ogni firma può presentare i prodotti. non solo di prodotti. Ma anche di storie. 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 Uniche situazioni. Uniche esperienze. del primo step. In il secondo. Il primo step. In la prima cosa. Il più importante. Il primo step. La prima仕imba. Il pomeriggimento. Il trasferimento. Trazione. A prestare. Frazione. Invece. e la tua vita è 24-25 anni. Molto, 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 molto. Per injectare, per portare in questa situazione dove ci sono artisani con un'attività di più o meno di 50-55 anni 60 anni. 60 anni. Travano l'interno della cultura. È strano, ma è molto, molto effettivamente. Questa idea semplice funziona. Travano il risultato, il successo e il business. Possiamo vedere il risultato economico, il business è sviluppato da questo terzo passo. Per esempio, la Commissione del Commercio ha deciso di sviluppare questi strumenti per altri ragazzi. L'anno scorso, abbiamo iniziato con due tutors. Questo anno abbiamo 8 tutors. Per spiegare il numero. È importante. È importante. E cosa riguarda questo congress in Turin? È molto importante. Per esempio, possiamo vedere le megatrendi dal punto di vista della Camera di Commercia. In diversi countries, in diversi situazioni, ma la Commissione del Commercio è l'instituzione tra le pubbliche e il mercato. È molto importante. È un ruolo cruciale nel sviluppo di sviluppo di sviluppo, come abbiamo visto in Plenari. Per te, quali sono i risultati del business per l'Italia? Per l'Italia? Sì. È una grande domanda. È una grande domanda. che possiamo produrre prodotti di più qualità. E possiamo più penetrare e trattare i settori di alto livello dei consumi. Con il rischio, con la cultura. Questa è la trancella. È la trancella, in modo da dire. Grazie mille, con la Camera di Commercio di Firenze ci fermiamo ma torneremo nuovamente con altri interventi qui dal nono congresso mondiale delle Camere di Commercio.